Sono svenuta, però parlo da tirocinante, la mia giornata da tirocinante in sala parto sono svenuta, solo guardando. Qualcuno dice fai l'ostetrica perché ti piacciono i bambini, non è così, anzi non è solo così, io ho una passione innata per i bambini, però al primo posto c'è la donna, io faccio l'ostetrica per tutelare quelli che sono i diritti della donna, io voglio stare vicino alla donna in questo meraviglioso percorso che è l'evento nascita.